Un saluto utenti di ExpertZone, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer e vi do il benvenuto su Microsoft ExpertZone Italia, il canale ufficiale che riunisce la community italiana di fan e curiosi di prodotti e servizi Microsoft, ma ovviamente anche di Xbox, Windows, Office e anche Surface. Xbox ha una missione, rendere disponibile a tutti la migliore esperienza possibile di gioco, con chi volete e quando volete. Ben 3 miliardi di giocatori in tutto il mondo fanno già parte dell'ecosistema Xbox, ma da oggi viene fatto un grosso passo avanti per tutti. Finalmente Xbox Cloud Gaming è disponibile per tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate, su PC, Windows 10, Smartphone e Tablet Android ed ora anche su iPad e iPhone, tramite i browser Microsoft Edge, Chrome e Safari e in ben 22 paesi del mondo. Se sei un membro di Xbox Game Pass Ultimate non ti resta che visitare xbox.com.com.play per avere subito accesso a centinaia di giochi della libreria Xbox Game Pass tramite il Cloud. Con miliardi di PC e Windows 10 attivi, dispositivi iOS e smartphone Android, Xbox vuole offrirti l'opportunità di giocare ai tuoi giochi preferiti Xbox quando e dove vuoi, non importa come. Tra le novità più importanti troviamo anche grandi miglioramenti all'esperienza di Xbox Cloud Gaming, in quanto ora la tecnologia è alimentata da un hardware personalizzato di Xbox Series X, in modo da garantirvi tempo di caricamento più rapidi, framerate migliori e un'esperienza di gioco assolutamente next gen, con la più bassa latenza possibile. Quindi sì, sarà possibile giocare in Full HD in streaming a ben 60 fps. Inoltre giocando in cloud avrai accesso alle stesse comodità che avresti giocando su console Xbox. Potrai cambiare rapidamente fra un gioco e l'altro, chattare e sfidare i tuoi amici ed ovviamente salvare tutti i tuoi progressi per continuare dopo, o riprendere la partita proprio dove avevi interrotto su console Xbox. Altra feature importante su cui Xbox ha lavorato molto è l'ottimizzazione di gioco, abilitando controlli touch semplificati, ora già disponibili su ben più di 50 giochi. Ad esempio uno di quelli che amo di più è Minecraft Dungeons e naturalmente potrete giocare Xbox Cloud Gaming con il vostro controller wireless Xbox, associandolo al vostro dispositivo tramite Bluetooth. Quindi oggi è davvero un giorno importantissimo per la storia di Xbox e ovviamente anche per voi, tutta la community di giocatori Xbox. Non avrei mai immaginato di poter giocare a Doom sul mio smartphone, ma è proprio quello che farò adesso. E non dimenticatevi di iscrivervi a expertzone.microsoft.com per diventare degli esperti del mondo Microsoft e seguite le nostre pagine social di ExpertZone Italia per non perdervi neanche una news sul mondo Xbox. Ciao! Ciao!